Pocchissimo Sansevero, tanta unione calcio, tantissimo Matteo Trigiani, protagonista della partita con una tripletta. Giocano a poker nella prima esibizione del nuovo anno i Bicegliesi che battono 4-0 l'alto tavoliere e conquistano tre punti vitali nel cammino verso la salvezza diretta in eccellenza. Non c'è storia nei 90 minuti giocati sul sintetico del Diliddo, ancora una volta chiuso al pubblico e senza possibilità per gli operatori dell'informazione di accedere alla gradinata. Basta un tempo ai padroni di casa per incanalare la contessa sui propri binari favorevoli. Avvio devastante per la squadra allenata da Memmo Di Corato, parecchio rinforzata durante la sessione invernale del mercato, il gol che rompe l'equilibrio poco dopo il quinto minuto. Lo realizza però uno della vecchia guardia, Trigiani, bella ed efficace, la sua vola è supregevole, invito di Losacco. Non si accontenta all'unione calcio, con Pierchio sceglie di fermare con la soluzione a giro ma non c'entra lo specchio. Non fallisce un colpo invece il 10 dei Bicegliesi che sfrutta un'uscita incerta. Di Leuce fa centro con la porta avversaria incustodita, raddoppio personale e 2-0 per i suoi. Approccio completamente da dimenticare per un Sansevero che aveva mostrato invece segnali di crescita nell'ultimo segmento del vecchio anno. I padroni di casa continuano così a macinare gioco e azioni proteste per questo tocco rischioso in aria di stranieri sulla soluzione acrobatica di De Mango ma l'arbitro lascia correre. La replica degli ospiti è affidata a questo piazzato senza sorte di De Vivo. È una conclusione che si perde sul fondo di poco di Armenise. Fioccano le occasioni. Leuci replica egregiamente a Compierchio. Lullo blocca in due tempi il tentativo di Graziano. Albrizio non incide con la soluzione a rasoterra. Poco male per i Bicegliesi che archiviano la pratica in chiusura di frazione. De Mango utilizza la punta del piede stile futsal per dare sostanza alla sua ottima prestazione e realizzare il gol del 3-0. E dopo una convincente replica di Leuci su Paulillo, una delle tante novità del mercato invernale, ecco che arriva anche il poker in pieno recupero. Lo realizza ancora una volta Trigiani. Tripletta ed inizio danno da favola per l'attaccante Bicegliese. Vittoria sigillata già a metà gara. L'unione calcio parte forte anche nella ripresa. Lo stesso De Mango scheggia la traversa con una sventola dalla distanza. Poi serve l'assit per la girata imprecisa di Compierchio. Quest'ultimo ci riprova intorno ad ora di gioco ma calcia sull'esterno della rete. Ingenuità di De Vivo che ha patita abbondantemente compromessa. Si becca il rosso per qualche parola colorita indirizzata al direttore di gara. L'ultimo quarto di partita è pura formalità. Compierchio cerca ma non trova la gioia personale anche con un pizzico di sfortuna quando bacia la parte alta della traversa. Non pervenuto pure nella ripresa il San Severo fatto eccezione per un doppio tentativo del nuovo entrato Battista. Prima con un tiro a giro poi con una punizione belletta da Lullo. Stravincia l'unione calcio la salvezza diretta. È un obiettivo più che la portata ora dei Bicegliesi. Perde e male il San Severo che dovrà archiviare in fretta la pagina più sbiadita della propria stagione. Grazie.